ci troviamo nella sala superiore della gipsoteca dell'università degli studi di perugia che è una grande collezione di statue di gesso calcate su originali di arte greca romana ed etrusca oggi la collezione dopo un riallestimento avvenuto pochi anni fa si trova nei meravigliosi ex magazzini di palazzo pontani al piano superiore sono custodite le opere d'arte greca riprodotte in gesso dai calcatori mercatali e cappelletti mentre nella parte inferiore abbiamo i gessi calcati su opere d'arte greca e romana la collezione che ha un inestimabile valore è stata voluta e curata nel tempo dal professor filippo magi etruscologo e storico dell'arte antica che fu direttore dell'istituto di archeologia a partire dagli anni 50 e negli anni 60 diresse i musei vaticani questo ha dato all'università di perugia la straordinaria occasione di ottenere delle copie al vero di opere d'arte custodite nei grandi musei vaticani di roma dall'aoconte alla venere di milo al capitello dell'erteo e poi nella gipsoteca inferiore la chimera il sarcofago degli sposi l'augusto velato capite un pannello del recinto dell'arapacis potete visitare questi meravigliosi tesori che sono pronti e affiancati ad opere d'arte contemporanea che l'università degli studi di perugia sta acquisendo per arricchire in maniera ancora più speciale questa collezione la statua dell'aoconte la venere di milo il capitello dell'eretteo la origa di delfi o ancora l'augusto velato capite il sarcofago degli sposi sono soltanto alcune delle bellissime opere d'arte frutto di una straordinaria maestria artigianale che potrete ammirare visitando questi nostri spazi